guarda qua che roba questo è idratato al 100% tanta acqua quanto farina quanta farina guarda qua guarda qua guarda che razza di pirlatura si può fare immaginate con un panettone che si può fare con questo guardate guarda come si accorcia la maglia se lo pirli guarda 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 la mano è quasi pulita guarda come si lo assorbe è pazzesco è un gioco questo un gioco ma